Lui è abituato a consolare le persone colpite da lutto e quando si è ammalato in tanti hanno voluto stargli vicino. È la storia del gatto Giuliano che arriva da Castiglion Fiorentino, il micio davvero speciale ha circa 7 anni e 3 anni fa è arrivato nella sede della misericordia malato. Una volta curato dal veterinario a prendersi cura di Giuliano sono stati i volontari. Da quel giorno il gatto ad ogni vecchia funebre non ha mai mancato di avvicinarsi alle persone che vedeva soffrire facendosi accarezzare. Qualche settimana fa però il micio ha iniziato a non star bene. Il veterinario ha così scoperto che aveva tre calcoli di oltre un centimetro ed era fondamentale un'operazione. È stato così lanciato un appello su Facebook per raccogliere quasi 400 euro necessari per il delicato intervento. Le persone si sono subito attivate per il gattino consolatore. In poche ore la cifra è stata così raggiunta grazie alle offerte. Lo scorso giovedì Giuliano è stato operato ad Arezzo sta bene ed è stato adottato dal negozio di articoli per animali che aveva lanciato l'appello.